cari amici ci troviamo nelle campagne di sinnai siamo in zona arancione quindi non ci spostiamo al comune perché vogliono così insomma però una scusa per trovare un posto speciale l'abbiamo sempre sinnai è un territorio che ci sta veramente dando veramente dando tante soddisfazioni e questa è una di quelle tomba di giganti fontana e landeri ragazzi questo è un monumento incredibile incredibile a due passi da cagliari da quarto dalle grandi città del sud della sardegna troviamo questa una tomba di giganti bellissima ragazzi sarà lunga circa 7 8 metri ancora si vedono i conci delle pareti della tomba ovviamente la copertura non c'è più perché è stata divelta da scavi clandestini questa è l'esedra ragazzi ancora evidente con i conci delle due ali dell'esedra questo è il corridoio funebre guardate che spettacolo ragazzi adesso entriamo dentro da prima si stringe poi si allarga e poi si restringe eccola qua uno spettacolo ragazzi a due passi da cagliari quarto dalle grandi città non ti aspetteresti mai di passeggiare nelle campagne di sinai tra sinai e mara calagonis e trovare un monumento del genere un saluto a tutti ciao dai custodi della memoria alla prossima a sibiri grazie a tutti